Buongiorno raga, la sentite la musica sottofondo? La sentite la musica sottofondo? E' arrivato il grande momento di farci gli auguri di buon anno, tanti auguri di un buon e felicissimo anno alla mia famiglia, agli amici miei, ai grandi amici di EB4, ai ragazzi dei jardini, ai ragazzi dei jardini, ai grandi ragazzi dei jardini che ho avuto modo di conoscere giovedì scorso e poi faccio veramente tanti auguri di un buon e felicissimo anno ai miei iscritti, grandi ragazzi, grandi ragazzi, voi che mi seguite tutti i giorni, voi che mi sostenete tutti i giorni, vi ringrazio veramente molto ragazzi, vi ringrazio veramente molto ragazzi, vi dico una cosa che non vi dico tutti i giorni davvero, oggi ve la dico, vi voglio veramente tanto bene a tutti quanti, vi voglio veramente tanto bene alla mia famiglia, agli amici miei, ai grandi amici di EB4, ai ragazzi dei jardini, vi voglio veramente tanto, ma tanto bene a tutti quanti, grandi ragazzi, grandi ragazzi, vi auguro un buon e felicissimo anno a tutti quanti, bene ragazzi, questo è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon anno a tutti, iscrivete il canale youtube, e seguitemi anche su instagram, su zebra bianconera 95, e seguitemi anche sulla pagina facebook di zebra bianconera, nella gioia del dolore, fino alla fine, forza il vento sempre, e buon anno a tutti ragazzi, ciao!